Buongiorno Friuli e buon lunedì, lunedì 10 aprile. La settimana inizia all'insegna di un cielo in genere poco nuvoloso su pianura e costa, localmente variabile sulle altre parti della regione, possibili foschie nelle ore notturne sui monti variabile con la possibilità di qualche locale rovescio, venti a regime di brezza. Le temperature vediamo minime di 8-11 gradi in pianura, 13-15 gradi sulla costa e massime che oggi toccheranno i 21-24 gradi in pianura, 17-19 gradi di massime invece sulla costa. Salendo in quota vediamo una media di 11 gradi a mille metri più 5 gradi invece a 2.000 metri di altitudine. Vediamo velocemente anche qual è la situazione e viabilità sulle principali autostrade della nostra regione, questa è la pagina dell'infotraffico di autovie che a un momento ci segnala solo dei banchi di nebbia sulla A4 nel tratto di autostrada che si trova in Veneto, situazione tranquilla invece per quanto riguarda l'autostrada A4 in Friuli, Venezia, Giulia. E ora cominciamo la nostra rassegna stampa, andiamo sulle prime pagine dei quotidiani nazionali e vediamo assieme quali sono i principali titoli di apertura. Vediamo il Corriere della Sera che apre così come tanti altri giornali, poi lo vedremo con il fatto di cronaca di questa domenica, gli attentati in Egitto nella domenica delle Palme, Egitto la domenica di sangue, due kamikaze contro i copti, decine di vittime, il Vaticano, il Papa non si ferma, è infatti in programma un viaggio di Papa Francesco proprio in Egitto nei prossimi giorni, l'Isis rivendica le azioni nelle chiese al Cairo e ad Alessandria, la visita di Francesco. Tra 20 giorni, domenica delle palme di sangue per i copti, i cristiani egiziani nativi, l'Isis attacca due chiese in Egitto e provoca almeno 45 vittime e poi appunto Papa Francesco che tra 20 giorni sarà al Cairo. Andiamo a leggere anche il titolo di questa fotonotizia che ci arriva da Stoccolma dove lo ricorderete proprio nei giorni scorsi c'è stato un altro attentato con un tir che è entrato di fatto in un negozio, in un centro commerciale. Il lutto e le riflessioni di uno scrittore. Ero terrorizzato per mia figlia dispersa ma la Svezia colpita resta aperta e civile. Queste le parole di David Lagerkranz, 54 anni, giornalista e scrittore di Stoccolma, erede di Stig Larsson. Non ha dubbi, abbracci e tolleranza, il modello Svezia è vivo. L'ira del premier svedese, l'Uzbeko senza asilo che ha fatto l'attentato andava espulso subito. Fiori e folla in piazza a Stoccolma. E poi per quanto riguarda la cronaca italiana invece tiene banco ancora la fuga del killer di Budrio, il presunto autore di quella rapina sfociata con un omicidio, qui ha fatto seguito un altro omicidio molto probabilmente sempre da parte della stessa persona. Cecchini, Parà e Sentinelle in mille per catturare Igor. Controlli casa per casa, trovati giaciglio e bici. Mille uomini, paracadutisti, Cecchini, la caccia a Igor, il killer di Budrio che in una settimana ha ucciso due volte e ferito un agente, continua. I cani hanno trovato un giaciglio dove Igor con molta probabilità ha trascorso alcune ore. Anche un giubbotto e una bicicletta potrebbero essere dell'uomo che sta asseminando il terrore. Vengono fatti controlli casa per casa e lasciate Sentinelle. Igor è braccato ma l'area da coprire è di almeno 20 chilometri. E vediamo anche quest'altro articolo che ci racconta la paura delle persone che vivono in questa zona, in questa zona tra Ferrara e Bologna. Dicono ci difendiamo con i fucili. Andiamo a vedere adesso velocemente anche le altre prime pagine. Andiamo su Repubblica. Vediamo che in apertura troviamo sempre i due attentati in Egitto. Strage di cristiani in Egitto, 45 morti. Il Papa conferma il viaggio tra i copti kamikaze dell'Isis contro due chiese durante la messa. A fine mese la trasferta di Francesco. E poi per quanto riguarda la politica andiamo di spalla e andiamo a vedere i risultati di questo sondaggio. Movimento 5 Stelle la rete del partito piglia tutto. Un sondaggio tra gli elettori del Movimento 5 Stelle che si dicono vicini alla percentuale più elevata è quella della Lega Nord. Ecco il titolo. Vediamo il 20% degli elettori del Movimento 5 Stelle si dicono vicini alla Lega Nord. Poi vediamo sinistra italiana con il 15, PD 7, nuovo centrodestra 7, Forza Italia 10, Fratelli d'Italia AN 11. Nei giorni scorsi il Movimento 5 Stelle si è recato a Ivrea a celebrare Gianroberto Casaleggio un anno dopo la morte ma anche indubbiamente a celebrare se stesso. Il Movimento infatti in questa fase politica fluida si muove a proprio agio. D'altronde si definisce un non partito. Chiudiamo Repubblica e andiamo a vedere adesso anche la prima pagina del giornale. Vediamo il titolo di apertura. Budrio sotto assedio in campo Parà e Cecchini in 1800 a caccia del criminale russo. Doveva essere espulso nel 2010. Andiamo anche adesso sulla prima pagina di Libero. In questo caso abbiamo gli attentati in Egitto in primo piano. La Domenica delle Salme, titola Libero, guerra di religione contro i cristiani. I fanatici musulmani colpiscono due chiese in Egitto nel giorno della festività delle Palme. Quasi 50 morti. È un attacco anche ad Al-Sisi, il presidente che vuole spazzare gli estremisti e si batte per cambiare il Corano. Chiudiamo Libero adesso e andiamo a vedere la prima pagina del Sole 24 ore. Andiamo a vedere anche un quotidiano economico finanziario in questa prima parte di rassegna. Fisco parte la caccia agli sconti. Negli ultimi 5 anni istituiti, corretti o prorogati, due bonus ogni mese. La mappa di deduzioni e detrazioni in vista delle prossime scadenze per le dichiarazioni dei redditi. Il Sole 24 ore oggi fornisce un piccolo vademecum. Chiudiamo adesso anche il Sole 24 ore. Andiamo a vedere anche la prima pagina della Gazzetta dello Sport. Vediamo il titolo di apertura. Euro Milan, Neuro Inter. Ieri sorpasso, sabato derby. Gli spagnoli Suso ed Eulofeu trascinano i rossoneri nel 4-0 al Palermo. Incubo Nerazzurro invece, Falcinelli Eroi della Domenica, Crotone rivede la salvezza. Pioli nel mirino, colpa di tutti, furia, ausilio, arroganti e l'Atalanta ride. Questa è la fotografia della giornata di campionato di ieri scattata dalla Gazzetta dello Sport. Poi torneremo nel corso della nostra rassegna stampa su tutti i quotidiani sportivi. Ma adesso andiamo a vedere come aprono e quali sono le notizie principali pubblicate dai quotidiani locali di oggi. Ecco il messaggero veneto di Udine. Friuli, la corsa per avere un'arma. Boom di richieste, 30.000 licenze. Corsi per donne al poligono. Questo è il titolo di apertura. Andiamo subito a pagina 2 e 3 dove vediamo tutto l'articolo che appunto ci racconta, ci spiega bene la presenza di armi, la richiesta anzi di porto d'armi nelle province di Udine e Pordenone. La corsa dei friulani per ottenere un'arma. A Pordenone tante richieste di autorizzazione, a Udine molti respingimenti. A Gorizia si ricorre alle denunce per attività sportiva. In tutto 30.000 licenze. E poi vediamo anche tutti i particolari per quanto riguarda appunto la detenzione di armi da parte dei friulani. C'è il caso appunto delle donne con la pistola, impariamo a difenderci. È nata a Visco un'associazione al femminile per sportive e curiose. In programma corsi al poligono e incontri con esperti del settore. Donne e armi è il nome di un'associazione che riassume un progetto molto più ampio, volto alla consapevolezza, all'autostima e alla crescita personale. Uno strumento per aumentare la qualità della vita delle donne. Il progetto parte da Visco e a farlo nascere è Nicoletta Nicola, una donna appassionata di armi da fuoco ma che confessa di averne avuto paura all'inizio. La vinta grazie al marito Paolo Fontana che ha lasciato il lavoro in banca per aprire un'armeria. E poi ieri il questore di Udine ha diffuso anche i dati sull'attività svolta nell'ultimo anno dalla Polizia di Stato. Andiamo a vedere quello che è emerso, reati in calo, ma la gente non si sente sicura. La constatazione di Cracovia, aumentati i controlli del territorio ma non basta. Ed è proprio questa la notizia che apre il fascicolo di oggi di Udine e provincia del Messaggero Veneto. Ecco la doppia pagina. Sicurezza in Friuli aumentano scippi e truffe ma sono in calo i furti. Tra poco andremo a sentire proprio le parole del questore di Udine, Cracovia, ma leggiamo intanto un passaggio di questo articolo che ci annuncia tra l'altro la festa della Polizia che si terrà oggi sotto la loggia del Lionel. Una festa per il 165esimo anniversario della fondazione del Corpo di Polizia. Sempre più pattuglie anche su strada. Nel 2016 controllate 20.000 auto. E anche in questo caso abbiamo tutti i numeri che appunto ci riassumono i reati contestati dalla Polizia nel 2016 e poi il confronto anche con i dati del 2015. Vediamo in diminuzione i furti, aumentano invece gli scippi e le frodi informatiche. Aumenta anche il lavoro per le pratiche legate alle richieste di asilo politico. Udine è addirittura quinta in Italia. 2.803 domande. Ne hanno gestite di più solo Roma, Milano, Torino e Napoli. Questi i dati diffusi ieri dal questore di Udine, Cracovia. Allora io direi di andare a sentire proprio l'intervista che ha realizzato Francesca Santoro al questore, Cracovia, che commenta un po' i dati, i risultati dell'attività svolta durante il 2016. Vediamo. Scorrendo i dati del 2016, cosa emerge? Quali sono secondo lei le indicazioni più importanti? Il tendenziale calo di tutti i reati, tra l'altro anche di quei reati che destano più allarme sociali e la conferma dei nostri risultati, la conferma della tenuta di un sistema del controllo del territorio che funziona. Abbiamo dovuto gestire nel 2016 un flusso migratorio senza precedenti per quanto riguarda questa provincia. Lo testimoniano il numero delle richieste di asilo presentate nella sola questura di Udine, oltre che i rintracci alla frontiera, oltre che le presenze contemporanee nelle strutture della città. In controtendenza, le frodi informatiche? Solo le frodi informatiche per fortuna, certo. Una delle figure di reato che è in continua salita, tra l'altro oltre che sul piano depressivo ci stiamo muovendo sul piano della sensibilizzazione per evitare di cadere le trappole che nasconde la rete. Da rimarcare anche l'aumento delle auto controllate? Perché le nostre pattuglie sono tutte dotate di tablet che consentono delle interrogazioni direttamente su strada e sul posto, tra l'altro dei tablet che ci sono stati donati dal confartigianato di Udine. La conclusione qual è? Che la provincia di Udine è controllata e c'è un buon livello di sicurezza? Questa qualità e capacità di controllo non è percepita dai cittadini. I cittadini continuano a sentirsi insicuri e per questo noi dobbiamo lavorare ancora di più e meglio, anche in collaborazione con loro. Ritorniamo ora in prima pagina, sempre sul messaggero Veneto di Udine. A centro pagina vediamo subito questa foto dell'udinese che festeggia dopo la bella vittoria di ieri contro il Genoa. Andiamo a riprendere la prima pagina del messaggero Veneto. Eccola, Udinese senza pietà, liquidato il Genoa 3-0. Gran bella squadra al Friuli in gol Depol e Zapata. Tra poco andremo ad approfondire anche questa notizia, così come la notizia della vittoria, anche della GSA contro Iesi, Okoyevola GSA alla grande, Iesi KO. Udine continua a tenere viva la speranza. Playoff. E poi purtroppo ci sono anche delle notizie di cronaca, cronaca nera. Andiamo di spalla con la moto contro una piazzola. Muore a 26 anni, ferito un amico. L'incidente è avvenuto nella serata di ieri a Codroipo. Ha perso la vita un giovane di 26 anni, ferito in modo grave. Anche un altro ragazzo che viaggiava con lui sulla moto. Abbiamo visto il titolo in prima pagina. Andiamo a prendere adesso anche l'articolo nelle pagine interne. Moto fuoristrada, muore a 26 anni. La vittima è Francesco Monaco di Dolegnano, ferito anche l'amico che viaggiava assieme a lui. Ecco il titolo e poi la foto anche dell'incidente, del luogo in cui è avvenuto l'incidente. Un giro in moto con gli amici la domenica sera. Poi sulla strada verso casa, una disperata frenata per evitare lo spartitraffico a un bivio. Un impatto fortissimo e poi più nulla. Sono stati questi gli ultimi istanti di vita di Francesco Monaco, 26 anni, Codroipese, che da qualche tempo viveva a Dolegnano con la fidanzata. Morto ieri sera in un incidente in moto lungo la statale Pontebana, all'altezza del Quadrivium. Gomme, ferito anche il coetaneo Valentino Sattolo, amico e compaesano, che viaggiava assieme a lui sulla moto, una Ducati di grossa cilindrata. Tornavano a casa dopo un pomeriggio, trascorso assieme a un altro ragazzo che li seguiva in moto. Chiudiamo questa pagina di cronaca, ritorniamo in prima pagina e andiamo a leggere sempre di spalla un fatto avvenuto in una scuola superiore di Udine, prof filmata sotto la gonna nei guai, tre studenti. Andiamo nel taglio alto adesso e andiamo a leggere la notizia della sospensione dei controlli ai confini fra Croazia e Slovenia, Croazia e Ungheria. La Croazia sospende i controlli al confine, rientra l'incubo code. Avevano creato forti disagi al traffico e poi ancora, rimanendo nel taglio alto, la vetrina Vinitali, i mercati cinesi, alla scoperta dei nostri vini. Ieri ha aperto i battenti la 52esima edizione di Vinitali a Verona. Nei prossimi giorni anche noi dedicheremo uno speciale a questa rassegna, lo speciale dell'ETG di Mercoledi, sarà dedicato proprio alla presenza del Friuli Venezia Giulia a Vinitali. Le bollicine del nord-est, ambasciatrici nel mondo. Mezzo miliardo di bottiglie nel 2016, ribolla gialla al top per incremento. Il collio punta al riconoscimento di DOCG con 19 varietà e 300 produttori. Vediamo alcune immagini dello stand del Friuli Venezia Giulia. Un brindisi inaugurale sotto le insegne dell'Europa. Considerata la presenza del commissario europeo all'agricoltura, Phil Hogan, ha aperto l'edizione numero 51 di Vinitali, che tra le migliaia di espositori di tutto il mondo vede la massiccia presenza delle delegazioni di Veneto e Friuli Venezia Giulia. Tanti i temi trattati dal ministro Maurizio Martina con lo stesso Hogan in un vertice a quattro occhi che esulano dal mondo della viticoltura in senso stretto, ma abbracciano molti altri argomenti di interesse per gli agricoltori, dallo snellimento delle pratiche burocratiche allo stanziamento delle risorse comunitarie. Martina ha puntato molto su biodiversità, investimenti e valorizzazione del lavoro delle imprese agricole. Hogan ha elogiato la produzione vitivinicola italiana, ma non si è sbilanciato, evitando di scontentare qualcuno. Ed ecco, ancora alcune immagini dello stand appunto del Friuli Venezia Giulia. Con il vigneto Friuli si mette alla prova sulla via della seta. Bianchi, rossi e spumanti testati per la prima volta dai cinesi. Enzo Zhang dice che ci sono opportunità per creare un bel business. Ritorniamo ora in prima pagina, sempre sul messaggero Veneto di Udine. Andiamo a leggere ancora qualche notizia. Vediamo che anche il messaggero Veneto ricorda in prima i due attentati in Egitto, andando invece nel taglio basso e tornando in Friuli Venezia Giulia. spazio anche a Venzone, finalista al Chilimangiaro, la trasmissione Rai dedicata al turismo, finalista nel concorso per Borgo Più Bello d'Italia. Tutti pazzi per Venzone, finalista a Chilimangiaro. Il Borgo Più Bello d'Italia 2017, Venzone, la piazza è andata in delirio, anche se per ora la cittadella medievale resta solo tra le finaliste del concorso Borgo dei Borghi. E vediamo anche un momento della festa a Venzone. La troupe del programma assicura di aver consegnato la targa in altre due località. La finale a Pasqua. Il sindaco di Bernardo dice grazie a chi ci ha votato. Chiudiamo adesso il messaggero Veneto di Udine, andiamo a vedere la prima pagina del messaggero Veneto di Pordenone. Pordenone unica in Italia a garantire piena autonomia alle persone down. L'iniziativa coinvolge 18 adulti che vivono in 4 appartamenti, lavorano e si muovono in libertà. Prima di ottenere l'indipendenza viene seguito un periodo di formazione che ha durata triennale. Un articolo che ci racconta l'esperienza positiva della casa al sole. Ha tagliato il traguardo dei 15 anni, ma rimane un'unica eccellenza italiana tutta pordenonese. Si tratta del progetto Casa al Sole, che garantisce l'autonomia a persone affette da sindrome di Down e con disabilità intellettiva. Sabato questa realtà è stata protagonista nella rassegna alle voci dell'inchiesta attraverso la proiezione del film The Grown Ups, che narra i sogni d'amore e di indipendenza di 4 ragazzi con la sindrome di Down. In sala, per raccontare l'esperienza di casa al sole, Sandro Morassut, presidente della fondazione Down di Pordenone. E anche in questo caso vediamo due momenti della serata in cui è stata raccontata questa esperienza. Chiudiamo il messaggero veneto di Pordenone, andiamo sul messaggero veneto di Gorizia. La regione allunga le mani su Ex Provincia e Villa Olivo. Gli edifici di Corso Italia, dell'ente in via di dismissione, ovvero della provincia, potrebbero ospitare gli uffici. Tra i beni da cedere, anche la casa per ferie a bagni di Lusnizza, e i laghetti di Dobbia. Fa ripuntati dunque sugli immobili, sugli edifici e sui beni di proprietà della provincia. Chiudiamo anche il messaggero veneto di Gorizia e andiamo adesso sul piccolo. In apertura troviamo una notizia che abbiamo già visto prima, anche sul messaggero veneto, la notizia dello stop ai controlli, ai confini con la Croazia. L'Unione Europea ci ripensa e ferma i controlli. Sospese le verifiche antiterrorismo ai valichi in Istria. Meno code. Venerdì e sabato erano state due giornate di passione, davvero per gli automobilisti, che dovevano attraversare il confine tra Slovenia e Croazia. Troppe attese ai valichi, l'Unione Europea ferma i controlli. La retromarcia dopo la protesta dei premier per le code interminabili. Zerar e Plenkovic avevano parlato di una situazione insostenibile. Ok, dunque dall'Unione Europea alla richiesta di Zagabria, Ljubljana e Budapest sospeso il provvedimento. I tre paesi a Bruxelles dicono va trovata un'altra soluzione per evitare la paralisi. E qui vediamo alcune immagini delle code che si erano formate appunto ai confini fra Slovenia e Croazia. Chiudiamo anche il piccolo, anzi ritorniamo un attimo sulla prima pagina del piccolo e vediamo la fotonotizia a centro pagina che ci mostra un'alma trieste in festa per aver battuto Ferrara. Tutto negli ultimi minuti, l'alma piega Ferrara 82 a 66. Andiamo anche sul gazzettino per chiudere questa prima carrellata sui quotidiani locali. Tra poco li riprenderemo in mano puntando l'attenzione sulle notizie sportive. Allora vediamo subito la prima del gazzettino. Kamikaze in chiesa, strage di cristiani. In apertura i due attentati in Egitto. vediamo anche sul gazzettino poi la caccia al killer Igor, lo stop ai controlli sul confine tra Slovenia e Croazia e poi invece per quanto riguarda la cronaca locale vediamo l'incendio che all'alba di ieri ha distrutto un mobilificio a Pravis Domini. Abbiamo anche le immagini, le foto che ci sono state inviate dal comando dei Vigili del Fuoco di Pordenone che ci mostrano appunto i danni causati da questo incendio. Mobilificio devastato dalle fiamme, danni ingenti, c'è l'ipotesi del dolo. Un violento incendio divampato all'alba di ieri distruggendo lo stabilimento dell'ex forma 3 di Pravis Domini. Da sei mesi in una parte del Cappannone si era insediata una nuova azienda sul posto 40 Vigili del Fuoco e l'ARPA per scongiurare l'allarme ambientale. Non si esclude il dolo. Andiamo nel taglio alto adesso. Ritorniamo sul gazzettino di oggi. Andiamo a vedere qualche altra notizia che ci arriva sempre dalla destra. Tagliamento a Sacile e sicurezza San Liberale resta in attesa della videosorveglianza. E poi ancora un intervento degli uomini del soccorso alpino. Un intervento particolarmente difficoltoso per portare soccorso a una donna caduta mentre stava percorrendo un sentiero in comune di Vito d'Asio. Donna cade sul sentiero e si ferisce. Difficili i soccorsi di volontari. E' 118 perché la zona era particolarmente impervia ma soprattutto c'era molta vegetazione che ha reso difficile proprio l'intervento dei soccorritori. Ancora una notizia sempre sulla prima del gazzettino. Il Pordenone sbanca Fano. Adesso è terzo. E tra poco con Francesco Pezzella andremo ad approfondire proprio le notizie sportive. Prima però vi ricordo anche i principali appuntamenti di oggi su Udinese TV. Vediamo alle 21 come ogni lunedì l'appuntamento con l'approfondimento del lunedì Udinese Tonight ma poi oggi ci saranno anche le partite in diretta del torneo delle regioni Friuli-Venezia-Giulia contro Toscana alle 9.30 i giovanissimi alle 11 gli allievi alle 16 i Juniores quindi tanto sport tanto calcio oggi su Udinese TV. Adesso ci fermiamo per un attimo di pubblicità e poi spazio come sempre alla nostra rassegna stampa sportiva. Rimanete con noi.